33 trilioni di tonnellate. 33 trontatré litioni di 33 trilioni di tronnell... 33 t... 33 trilioni... 33 litio... 33 trentini 33 di cosa? 33 trilioni di tonnellate. No, non vi stiamo proponendo un nuovo scioglilingua da Trento. È il peso della cosiddetta tecnosfera. La stima cioè del peso di tutto ciò che abbiamo estratto, prodotto, costruito, processato e infine nella maggior parte dei casi gettato via. Una quantità enorme che però forse vi può dare l'idea di quanto sia pesante l'impronta lasciata dalla nostra presenza su questo pianeta. Siamo ingombranti e decisamente troppi. 10 miliardi entro il 2050 secondo le più recenti stime. La semplice osservazione di una piastra di coltura batterica ci mostra che non è possibile crescere all'infinito in un sistema chiuso. Analogamente il pianeta Terra è come una piastra di coltura batterica e Homo sapiens è la tecnosfera come un organismo che continua a crescere come se non ci fosse limite. Spegnere una lampadina vuol dire anche pesare un po' meno.